Vedete, so che è brutto dirlo. Io, scrivendo questo libro, non ho scritto il libro per farmi dire che ho ragione su tutto. Ho disseminato nel libro anche cose urticanti, fastidiose, ho infilato mille contraddizioni. E la contraddizione più sgargiante che propongo è quella che vede noi stessi come primi responsabili della distruzione di questa nostra terra. E questo a maggior ragione avendo a disposizione la bellezza e la potenza di questa terra che non è un museo, è futuro. E dovremmo capirlo una volta per tutte. E questo passa attraverso la responsabilità degli imprenditori, voglio dirla pure brutta. Passa anche attraverso la responsabilità dei ricchi. Forse solo i ricchi possono salvare questa terra. Perché conviene a maggior ragione a loro renderla ancora più forte, ancora più proiettata nel futuro. Sono ormai i tempi adatti a poter fare tabula rasa di ciò che è stato e di cominciare a costruire in ragione di una ovvia necessità. E si chiama futuro. Quando, se avrete voglia, leggerete il libro, in Balat troverete le esperienze di persone in carne e ossa che si prendono gli aerei da lontano e arrivano apposta, ognuno a Palermo, qualcuno a Modica, altri in altre realtà, dove di volta in volta, individuando i luoghi, capiscono che cosa ne può derivare in termini proprio di futuro, di impresa. A noi magari, io ve lo dico, per esempio la mia esperienza, io guardo il mio paese e molto spesso vedo dei palazzi, delle chiese, delle strade, dei reticoli e dico potrebbe essere né più né meno che Orvieto, potrebbe essere né più né meno che Gubbio e apposta faccio un esempio umbro per cercare di capire perché mai tutto quello che succede a Gubbio, quello che succede a Orvieto non succede ad Agira. Perché mai in questo gioco di paradossi straordinari con la presenza dell'outlet, Agira dopo Milano e il secondo posto c'è Abercrombie che ho trovato una cosa straordinaria. Abbiamo ancora una volta il rapporto bloccato con la modernità. abbiamo questo passo vincolato rispetto a quello che dovrebbe essere la costruzione del futuro e quindi Balatte e con Balatte tante altre esperienze, anche quelle di molti che in Sicilia da imprenditori hanno provato e poi si sono ritrovati nell'unica, nell'unico colpo di scena finora disponibile. Levareci mano. La colpa, caro Pietrangelo, anche se la citazione non è mia, non è nelle stelle ma è forse in noi stessi. Potremmo riassumerla così, questa tua cavalcata. è però una piccola contraddizione. Tu teorizzi giustamente il ritorno dello Stato in Sicilia, la presenza dello Stato in Sicilia e parli di un commissariamento e parli di un plenipotenziario. C'è un problema con la democrazia? C'è una contraddizione? Come la risolviamo? E scusa, no, è un'altra cosa, e anche questa qua è una piccola provocazione che ti faccio. C'è un bellissimo passaggio del tuo libro dedicato al MUOS. Voi sapete cos'è il MUOS, è il sistema di radar con cui il sistema strategico americano controlla le comunicazioni, controlla tutte le operazioni strategiche degli Stati Uniti e della Nato e il MUOS è in Sicilia vicino ai Scemi. È un'opera molto controversa, è un lavoro che ha provocato proteste, che ha provocato un movimento popolare e è un lavoro che ha provocato anche, che ha fatto uscire, ha attirato il governatore Crocetta in una delle sue figure da Pappagone e è andato lì, ha promesso fulmini e saette contro il MUOS, dopodiché è arrivato a Palazzo d'Oleano, è arrivato a Palermo all'Assemblea regionale, dicendo ha chiamato Obama, ha chiamato Obama, in realtà Obama non aveva chiamato lui, aveva chiamato il Presidente del Consiglio, la Ricoletta dell'epoca, il MUOS si deve fare. Ora, se posso dire, un plenipotenziario che si rispetti viene in Sicilia e fa il MUOS, perché il MUOS fa parte degli obblighi di alleanza internazionale, degli obblighi internazionali del Paese e nel momento in cui un plenipotenziario arriva in Sicilia deve ovviamente, prima ancora, è uno che c'è in testa quali sono gli interessi generali del Paese e se quello è un impegno internazionale preso dal nostro Paese, ne va della sua collocazione il MUOS ha da fare. Allora, sono contraddizioni un po' così messe alla rinfusa, però era questa un po' la cosa su cui ti volevo provocare per ultimo. E io faccio appello all'odio atavico che abbiamo verso la verità e facendo appello alla verità dico una cosa su cui sono sicuro tutti siamo d'accordo e cioè che è impossibile governare la Sicilia col ricatto del consenso, è inimmaginabile perché se togli Crocetta e ci metti un altro è inevitabile che quell'altro risulterà peggio di Crocetta perché se tu pensi di cambiare attraverso un meccanismo elettorale sai perfettamente che è l'infinita pletora degli aggregati forestali, è dell'infinita pletora dei corsi di formazione, è l'infinita pletora che deriva dalla sanità, è l'infinita pletora che deriva dai disoccupati organizzati, è l'infinita pletora che arriva dai pensionati, dai finti invalidi, da quelli che sono meritatamente tali, che cosa finisce? È impossibile, impossibile, facendo appello alla verità si capisce e nella scienza politica è previsto che noi siamo in uno stato d'eccezione e se proprio non c'è il decisore occorre la decisione e in uno stato di eccezione si mette mano così come si è messa mano in tante altre delicate situazioni, ultimamente quella della città di Roma dove lì sono perfino combinati peggio con Marino che in dieci volte peggio Crocetta e noi che viviamo a Roma sappiamo perfettamente che è imbarazzante la situazione della capitale d'Italia e sappiamo perfettamente facendo i giornalisti che Matteo Renzi ha comunque cominciato a muoversi e probabilmente non mangerà il panettone Marino, lo toglieranno perché non è concepibile che Roma possa essere amministrata da un personaggio simile. Stessa cosa in Sicilia, non tanto per il signor Crocetta ma per la situazione in sé. È inimmaginabile che questo pezzo importante del Mediterraneo, questo grumo fondamentale degli equilibri geopolitici sia ridotto alla deriva perché magari noi possiamo far finta che non sia così però con i numeri e facendosi raccontare le cose dai prefetti, facendosele raccontare da chi giorno dopo giorno conosce la realtà, sappiamo perfettamente che la favola bella della rivoluzione non esiste e non c'è. Tu dici quali sono i meccanismi? Certo i meccanismi formali dicono di un commissario che sta tre mesi e deve indire le elezioni, ma lo stato d'eccezione, una discussione forte, pesante deve sollevarsi e deve aprirsi e siccome io non faccio altro che incontrare la gente, io una pulce ve la voglio lasciare nell'orecchio e cioè che se tutti noi, adottando ognuno di noi un deputato regionale, si cominciasse a reclamare, a chiedere, a suggerire le dimissioni di tutti i deputati regionali, già sarebbe un colpo magnifico perché forse non potremmo avere il commissario ma un trauma, un trauma definitivo che svegli il torpore in cui siamo precipitati è necessario altrimenti, altro che tutto cambia per non cambiare mai, cambiando in peggio si chiude bottega e a Sicilia finisce come si diceva una volta nelle battaglie saracene, cupiglio un turco e usò, sarà adattato ai siciliani, cupiglio un siciliano e usò Noi ringraziamo Pietrangelo Buttafuoco per l'intelligenza, la franchezza anche brutale e soprattutto la passione con cui questa sera ci ha dato molto materiale su cui riflette Grazie Grazie Grazie